Patrizia Reggiani, lo sa che stanno pensando a un film sulla sua storia diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga. Che effetto le fa pensare a tutto questo e a quello che è successo messo in un film? Mi dissocio un attimo perché ho due figlie e quindi non mi va bene che loro rivedano la situazione del loro padre. Per cui non è contenta di questa notizia che immagino abbia letto sui giornali? Assolutamente sì. Che cos'è che ha più timore? Che venga ricostruito tutto? Che le figlie possano rivivere la stessa cosa che hanno vissuto tanti anni fa? Sì, esattamente questo. Che rapporto c'è adesso con le figlie, Patrizia? Assolutamente nullo perché a un certo punto loro mi hanno accusato per il vitalizio tutte queste cose qua. Quel famoso vitalizio, quel contratto prematrimoniale dove in realtà c'era scritto che se fosse accaduto qualcosa a suo marito, Maurizio Gucci, lei avrebbe avuto diritto a un'enormità di soldi. Quanti? Beh, credo un milione di franchi, non so, una roba così. Ecco, una cifra comunque. Enorme. Ecco, per questo motivo, poi dopo tutto quello che è successo, dopo il carcere, adesso parleremo anche di tutto, di tutta la storia, però con le figlie praticamente... Allora, si è bloccata la macchina. Angelo Perrone, dunque, il film, lei dice, io non sono d'accordo che venga fatto questo film, nessuno mi ha contattata, non sono d'accordo perché penso alle mie figlie. Lei con le figlie in questo momento non ci va molto d'accordo perché appunto ci sono problemi legati al vitalizio, però lei dice, io non voglio che le mie figlie rivedano e debbano rivivere tutta la storia in un film, addirittura un film internazionale diretto da Ridley Scott. Beh, guarda, in genere quando si fanno questi film dedicati a persone viventi o non più viventi, si interpellano sempre i familiari o gli stretti amici delle persone che sono state determinanti nella storia. Prendiamo il caso anche del film che fu fatto su Versace, Donatella Versace fu contattata dalla produzione e lei si rifiutò di partecipare alla sceneggiatura e quindi si distrosciò. Un attimo, Tiziana. Ma viene da un romano, Eleonora. Tiziana Rocca. Scusate, sto finendo di parlare un attimo, con calma. Se lei non è stata interpellata, evidentemente nei toni, nei modi, nei nodi della sceneggiatura non si pensa che essere fondamentale la sua dichiarazione. Tiziana, io nel passato quando organizzavo eventi a Milano ha avuto Patrizia anche ospita degli eventi. Lei, devo dire, era una di quelle che si notava di più per un look molto forte, aveva sempre boa, paillette, quindi non la potevi non notare. Lei non c'è mai, diciamo, una scuola. Ricordiamo che ha pagato con la legge, con i 18 anni di carcere, ma Lady Gaga, secondo me, che... Lei non si dice pentita. Lady Gaga che la interpreterà è perfetta, perché comunque, intanto Lady Gaga vuole dare una prova di attrice e non soltanto di cantante, quindi lei, io ci ho parlato con Lady Gaga a Los Angeles, lei adora intanto gli italiani. Poi ha detto, io voglio dimostrare che sono una brava attrice senza soltanto cantare o la musica. Quindi secondo me è una scelta perfetta, avrà un grande richiamo, un grande successo. Ritli Scott sicuro non chiederà a lei. Se la Reggiani fosse stata interpellata e pagata dalla polonazione, se si fosse anche dissociata. Credo proprio di no. Allora, scusate, ha parlato del risarcimento, questo ci tengo a mandarlo in onda, perché l'intervista è lunga, poi ne manderemo alcuni pezzi anche nella prossima settimana. Però è morta la mamma di Patrizia Reggiani ad aprile di quest'anno. Patrizia riceve i soldi in eredità della mamma, della quale seguirà la sua fondazione, e ha deciso di donare i soldi del risarcimento sia a Paola Franchi sia al portiere onorato. Sentite. Adesso lei ha deciso di dare finalmente i soldi del risarcimento al portiere onorato e a Paola Franchi, che era la compagna di Maurizio Gucci. Come mai questa scelta? Come mai proprio adesso? Dunque, questa scelta è stata fatta, punto uno, perché mia madre non ha mai voluto dare soldi a questa signora. E poi così, perché il tempo passava, passava, passava. Cioè, sua madre non aveva mai voluto dare i soldi a Paola Franchi, ma neanche al portiere onorato, che tante volte si è lamentato e che ha avuto la vita totalmente rovinata. Lei dice? Beh, lui lo dice lui, non è che lo dico io. Lui è stata rovinata la vita, Patrizia, fra l'altro nessun risarcimento gli era stato dato. Io penso che sia una cosa giusta quella che lei sta facendo di risarcirlo. Ah sì, 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 assolutamente sì. Io l'ho incontrato e allora gli ho detto, lei non si preoccupi, sarà risarcito. Ma lei lo sta facendo adesso, l'ha fatto da poco? Sì, adesso. Ma perché è riuscita ad avere dei soldi dall'eredità dalla mamma? Sì. Ecco, per questo motivo, perché prima non poteva farlo, perché lei non poteva disporre di niente. Perché la mamma, sua madre, non voleva dare risarcimento né a Paola Franchi e né al portiere. Giusto? Giusto. Ecco, per cui nel momento in cui la mamma muore, lei decide di fare questa cosa. Esatto. Perché decide di farla, Patrizia? Perché io adesso cambio pagina. Per volontà di cambiare pagina, ma forse anche per mettersi un po' in pace con il passato, Patrizia? Sì, voglio stabilire quello che è giusto.